Sì, infatti. Ciao Virginia, ti commenta in mente il primo personaggio e il vero azione dell'anno, è condotto il concertone del primo maggio e sei presente nel mangiare canale televisivo. Adesso conduci gli MTV Awards 2013, cosa ti aspetta da questa nuova avventura? Dici basta, basta! No, no, no! No, beh, è un'esperienza ancora più, insomma, è un'esperienza nuova, differente, anche se per alcuni versi può ricordarmi il primo maggio, un po' per tutta tanta gente, un po' perché c'è come legame la musica, però è sempre, è sempre tutto nuovo. Il bello è proprio questo, nel senso che sei sempre in gioco, farò delle cose differenti ovviamente dal primo maggio e mi alternerò, ci sarò anch'io con la mia faccia oltre a interpretare Belen ovviamente per gioco, però insomma ci tenevo a essere in prima persona proprio perché è un'esperienza talmente bella che non voglio delegare nessuno, ci sto venendo. Da Nicole Minetti a Belen, il palco di Firenze insieme a Renzi. È un link! Nicole Minetti non ci sarà anche perché lei è un Tribunation, quindi insomma non ci sarà, però magari un saluto, lo facciamo le amiche chips che ci saranno lì. Senti, Birgini e Belen come si sono preparati, come si stanno preparati? Eh, insomma, si preparano, sì, Belen fa più dieta, insomma io mangio, no, 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 si dorme, si dorme, siamo tutti molto belli carichi, perché sappiamo che ci sarà, insomma, speriamo ci sarà, sarà così, una folla carica anche perché la musica lega tutti, quindi insomma è quello. Grazie. Grazie.